Resisti, non mi trovo ancora all'evento Non mi trovo all'evento 1 Ma qua è partito Twitch è andato, come al solito Twitch non dà problemi Eh, ti sei in roga a miseria Twitch, eh? Twitch, eh Ciao l'Axpo Mi risponde? Nel frattempo Twitch non mi segna quanta gente c'è connessa Quindi sempre peggio, va bene Siamo partiti anche su YouTube, adesso vediamo se questa Se questo widget maledetto mi fa mettere la chat Alessima Perfetto Refresh È una I maiuscola Jaspo Non è una L Ah, scusa Era un attimo preso da Benissimo Ah, abbiamo Sick Boy Schoberly Che gli è arrivata la notifica Quindi vuol dire che è arrivata, spero, anche ad altre persone S'è arrivata a te, spero che è arrivata anche a È giusto No, è giusto Spero sia Sì, è Spero che è arrivata Bene, ragazzi, bene, bene, bene Guarda che bello Roba cazzo Stavolta Stavolta Non è per gaming, purtroppo Perché un PC da gaming da 4.000 euro ci sarebbe proprio voluto Però intanto mangio Intanto che aspetto che voi vi collegate Io mangio i miei biscottini a farlo Tiè 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 Oggi big configurazione Tiè Tiè Big configurazione Attenzione Attenzione Oggi BAM 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 Ale Manca qualcos'altro? Non lanciare Ma con come ve lo affreddiamo sto coso? L'H600, non l'hai preso? Come l'H600? Vabbè, non la metto già dentro l'aria e gli ho detto no Vabbè Quella che è Altro Allora, 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 allora Siamo già tantissimi Siamo 40 spettatori Forza sfondate il tasto mi piace L'H600 PRO Allora, adesso vediamo il primo che si iscrive L'abbiamo messo Dopo circa due mesi che lo dicevamo E non ho avuto il tempo, lo ammetto, colpa mia Di fare questa cosa Siamo riusciti a Unificare, diciamo così, Streamlabs con XSplit Questo che vuol dire? Che praticamente A ogni iscritto nuovo A ogni donazione e a ogni super chat Oltre alla notifica ovviamente per la super chat Anche su YouTube Comparirà proprio a schermo Una cosa che non sappiamo ancora se funziona Ho messo degli effetti preimpostati carini Ci ho perso, ve lo dico, 5 minuti Però sono carini Quindi mano a mano che arriveranno gli iscritti Potrete vederlo Potrei anche mandare una prova Però è poco carino e mi mando la prova da solo Aspettiamo che si iscriva qualcuno Se c'è qualcuno che non si è iscritto al canale Questa è un'occasione per iscriversi Che potrebbe essere il primo ad avere L'animazione Diciamo dedicata Diciamo così Uno ci si abitua a parlare come a voi Dopo un po' eh Giusto? Giusto? Ci segui troppo Buonasera, buonasera Ho letto masterizzatore di buddini Ma tu non sai Hai letto bene gli expo Hai letto, hai letto bene, purtroppo Guarda che E non l'ho manco scritto nell'elenco Masterizzatore di buddini Perché mi sono vergognato L'ho riuscito a vederlo dal foglio E no che stavo dicendo? Stavo dicendo una cosa importante Vabbè Vabbè Le solite paginate che tu dici Le frasi fatte Ma si 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 Fanno appoggiare il suo stanco Allora Questa sera cosa facciamo? Bene Oh ma stai caldo Mi scali l'avambraccio Allora Allora Ragazzi Ho visto la foto del Ryzen Quando No ragazzi Era vuota Un cliente Ma apresti un attimo Mi faccia la foto E' vero ragazzi Lo posso dire No ragazzi Allora Ci abbiamo da fare un assemblato corretto Eccolo Oh iscritto Bravo Bravo Tu 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 Grande Hai visto? Vi piace questa Siamo scoperto che funziona Si si Ciao Alessio Grande Alessio Tommasi Forza Lecce Da quanto tempo? Tantissimo Che fine hai fatto? Allora Ehm Quindi Ciao ragazzi Giuseppe Quando si scrive qualcuno Un processore AMD E viene presa a martellare Tipo la GIF Ma Ma Favamo noi a GIF Abbiamo noi E' cominciata E' cominciata Adesso C'è comincia Aspetta E' buona Andate corsa Inizialmente Fa sempre piacere Farci due chiacchiere Allora ragazzi Che ne pensate della GIF Questa qui Di quando c'è un nuovo iscritto Carina vero? L'audio com'è? E' alto o basso Stappa le orecchie Comunque com'è? Per sapere un attimo Come regolarci Sono io Bella Francesco Ben arrivato Francesco sei il primo Iscritto Il primo iscritto Che si è beccato L'applauso La live In realtà è iniziata Dalla 5 minuti Ma ancora non è iniziata Perché come vedete Abbiamo tutto questo popolo È da montare Noi aspettiamo sempre Un po' di tempo Per consentirvi Di entrare tipo al cinema Noi diamo i primi 10 minuti Di pubblicità Per consentire alla gente Di prendere posto Allora se avete bisogno di un processore Di uno scaldino Dello scaldotto In casa Abbiamo qua i nuovi scaldini 7 Questi sono ottimi Specialmente se li accoppiate con questa Questa è l'alimentatore dello scaldino Li unite E potete Ci create uno scaldotto Lo mettete In bagno? No, no In mezzo alle gambe Mentre giochi Sotto tutte le gambe Lo giri Ci siamo capiti Questo per l'inverno È comodissimo È comodissimo Allora ciao a tutti ragazzi Mi disiscrivo e poi mi riscrivo Dite che dà la notifica Voi non lo so Puoi provare Puoi provare Non lo so Audio perfetto Siete bianchi in faccia No ma siamo bianchi proprio noi In realtà è proprio perché c'è questa luce Prova un po' speggio un attimo per fare tutto L'ombrello? Eh no è brutto Prova Eccolo un altro iscritto Non è vero è lui che sei disiscritto E sei disiscritto Allora La Fabio Dammo Scaldino Ti dicono Bene 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 Ragazzi siamo 76 Allora tutti quelli che sono entrati Anche Luca vai qui continuano No Se stanno iscrivendo e disiscrivendo Ma si 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 Luca Stefano ma le fai le PCB Luca vai a studiare Senti Luca a proposito Ho 76 pacchi Quando ti viene a PIA? Eh un attimino un attimo ti faccio pagare il pedaggio A giacenza A giacenza Ma no dai non scada così tanto Insomma io mi devo vedere la live in 360p Se no i 20 giri ne partono subito E te che sta guardando al cellulare grande Sei un grande Tenaci molto tenaci A voglia che ve sugo troppo Butta via quella scatola Attenzione No ragazzi E' già il più elegante Vedete Quando già la muovi la adagi La prendi così no? E' proprio un'altra Già Ho detto tutto Già a momenti mi denunciato Volevo fare pure la stessa cosa No Bravo Cristiano Varini Ben iscritto Non so se già c'eri Ma qui la gente si capisce Toccamente i tuoi vecchi iscritti Partono i fischi E poi i nuovi applausi Che sono questi dopo Ci cominciano a fare Il che ballacca Perché tutti quanti vanno senti Eh? Si è vero Perché la gamma si focalizza Purtroppo sul neon Ma i neon dietro ci servono Per il negozio Non è che Non è che poi dopo ci sono Il negozio sembra chiuso Esatto Voi dovete vedere bene Dai fate i bravi Esatto Esatto Quindi ragazzi abbiamo qui 7800X I7 Skylake X Attenzione salvo la rosa Ma io non so Ma è gente nuova o meno Cioè non capisco che stiamo a fare L'ha iscritto ogni 3 secondi Quanti ne fanno? Oggi 800 questa cosa ragazzi Dai fate i bravi Allora eh E niente Ho sempre visto Ormai non ho capito che Buon arrivamo eh Eh Basta eh Comunque solo per info 4000 Chi è così ricco? Beh è una società No è una società No è una società Ci lavorano Wall Station Però hanno voluto il masterizzatore Quindi comunque sia Solo questo Cioè ci hanno chiesto due cose Per forza Sulle quali Stefano Si è opposto Una è il masterizzatore E quell'altro Vogliamo un case Sui pannelli frano assorbenti E noi abbiamo risposto Ma guarda che È tosta È che bisogna trovare un case Stile 96 Annata 96 97 Che frano assorbente Si usava in quel periodo Perché È così Però Pure col buco per masterizzatore Eh Non è facile Non è stato facile È venuto il nostro aiuto Cooler Master Che io non vi giuro Lo ammetto Cioè siamo ufficiali Cooler Master Io non sapevo Cooler Master Producesse un case del genere E lo fanno Lo fanno Lo fanno E quindi Vabbè Questo qui L'hanno restaurato Il vecchio Il vecchio silenzio No? C'era già Un silenzio Si Ce ne sono 3-4 È brutto come Beh questo è un po' più Un po' più nuovo Ovviamente Eh E Salve raga Ma quando ci sarà Ryzen? Allora no Ryzen ragazzi quello lì è un pc Che dobbiamo fare Lo vedrete in un altro video Sicuramente non in live No Abbiamo dovuto scartare addirittura E vi dico addirittura Abbiamo dovuto scartare Qui abbiamo Kenny Si conosce tanto Salt Park Abbiamo dovuto scartare addirittura Un pc da 2k e mezzo No Kenny è così Si Da 2k e mezzo Con la 1070 Ti Abbiamo detto Senti questo non lo possiamo fare in live Bravo Così Non lo possiamo fare in live Dobbiamo fare spazio a questo E costa comunque 4k Quindi Eh Abbiamo dovuto Sta qua dietro Sta qua dietro Hanno costato Kenny Bratti passa No Andiamo in modalità con l'estensione Eh Allora Siamo 92 spettatori Benissimo Adesso ragazzi Dobbiamo raggiungere almeno 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 i 100 like Quindi cominciate a cliccare Mi piace Mi piace Mi piace Mi piace Tutti quanti Motor 2k 144 IPS Budget 300 500 Euro C'è qualcosa Sì Sì Adesso di preciso però Non ti ho posto di 144 MSI Curvo Quello lì 27 pollici Via via Allora Comunque Horizon 2006 con una B350 Arctic Occiato A3,7 con il destinatore stock E' un PSU D'UGB Fabio C'hai un'età Ti dice lo Iannello che fa finta dell'ora Già Già l'ho ripreso È uscito il gioco nuovo È uscito il gioco nuovo di South Park Sì è vero è uscito il gioco nuovo di South Park Dicono tutti che è spettacolare Ragazzi cosa mi consigliate di prendere il nuovo Intel Coffileco e aspettare alle nuove uscite No prendilo adesso e che non uscire se ne riparla fra almeno 6-7 mesi o un anno Quindi vai L'acquario L'acquario poi lo vedrete L'acquario vi posso certificare che è finito Attenzione riciccia fuori un without trace Nonché chiamata Alessia Che ho visto che sponsorizza Però hai notato una cosa Quando c'è Alessia non c'è Francesco Polli, Napolino o Pollinà Allora forse è la stessa persona Alessia sei tu Francesco Polli, Napolino o Pollinà Adesso loghi con l'altro account e non ce lo dici Certo ben chiuso di tutta la vita bravissimo Oh 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 divino che l'hai preso sotto consiglio di Fabio E va uno spettacolo giustamente ti consigliamo sempre Allora quindi oggi montiamo questa Siamo pronti 97 spettatori ma sempre 46 like Ma va bene che il 46 è De Valentino ragazzi ma dobbiamo 47 forza 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 La scorsa live venerdì scorso siamo arrivati a ben più di 120 like Il tempo che io ho cominciato a prendere in mano il cacciavite e montare E che abbiamo fatto togliere costui da davanti alla postazione Ecco se no facciamo fare night Poi per risparmiare non accendo la No non è purtroppo non è lui Alessia non è Francesco E che ne so io adesso Francesco non c'è E infatti bisognerebbe avere un Francesco insieme Ma accendi l'altro pc Dai log da tutte e due così a meno farete che E dai big controllo Quindi avete Ryzen in negozio Ma certamente Ma certamente E' una questione Si ancora è poco perché poi lo montiamo e poi esce No vabbè se Ehm Dai no avevamo detto Cioè il primo che ci chiede E pensate questo Credo che sia un ragazzo Le dobbiamo spedire Non segue tra l'altro il canale Quindi non sa quello che ha creato No ha creato un Che poi oggi ne ho fatto un altro con Ryzen Ragazzi non è che niente niente è Tutto preventivo è fatto Preventivo Non è un pc Preventivo Buonasera Ciao Fredem 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 Ciao Ciao Chi assembla stasera? Quattro sacchi Chiedo a mano Quattro sacchi Ragazzi a Roma si dice quattro sacchi Quattro fischioni Lo faccio con io questo Tu stai buono Leggi la chat tranquillo Lo metti da copertina Che tu stai a fredda Ti metto il giacchettino pure Vai Oh dai copri dei gambe che c'è freddo Oh ecco qua Vai Adesso mamma ne sembri il vecchietto quello che ti vorrà Allora adesso Come faccio le vecchietti e le guarda Un bravo Allora dai ti sposto così Vai bravo C'era la luce un po' passione E' un po' un po' Eppure Vai se ti metto le occhiali Ecco qua A posto Do sta una per naso Attenzione ci hanno donato Bella questa è nuova La vedete adesso per la prima volta Meteo Leggeri ci ha donato 2 euro E' partito Grande Così per provare la super chat Mi merito un regalo Bravissimo Meteo Ti meriti Un applauso Già fatto Era preimpostato nella GIF Così non faccio neanche fatica a farglielo io Niente Pare che mi sono messo in vegetale Pare quello di The Futurama Il vecchietto quello Uguale Ma tu ti rendi conto che io ho una partita IVA e ci ho più di 30 anni Ma ti rendi conto che mi stai messo male? Guarda che sto a fare Ma che stai fa poi? E poi tu pensa la cosa peggio non è questa è che ci sono 107 persone che mi stanno a guardare Mamma mia ormai Non lo so chi è che sta messo bene Allora 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 Quattro sacchi sono 400 Quattro teschi sono No non è vero Vogliamo come te pare Quattro fischioni Quattro sacchi Dai Quattro piotte sono 400 Quattro piotte o 400 Dai C'è una valuta diversa Entro il raccordo è così Eh allora allora Ciao Iv Ciao Ivano Ciao 6850k versus 8700k Chi la vince vince il 6850k se lo fai con applicativi di montaggio, compressione, video Se lo utilizzi Se lo fai con applicativi Complicativi Attenzione l'Oiannello ci dona ma non parte non parte No no arriva dopo Arriva dopo No è fake guarda non ha donato a fare fake donazioni Non ha fatto con la super chat Non ha fatto con la super chat Fatto con splendido Fatto con splendido Dai è buono Dai le sta buono Tu ho ridotto stasera l'euro Che sta sentito male Ah stai mettigli il cappello Dove sta il cappello? Quale cappello? Oh eccolo l'Oiannello compare Maledetto ha donato Allora Allora Lo sai che sembra? Sembri quello lì Del gobbo De 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 Frankenstein Frankenstein Junior Non Dai quello lì la gobba Quale gobba? E c'ha il bozzo qua dietro Questo in gira che almeno ha ottenuto Ah non c'ha il bozzo Allora E lui ci riflettono Se no Troppo Non ho capito Eh l'ho capito io Era Relativa alla mia pelata Ah Ah Tipo alberto sordino L'ho detto mettete l'asciugamano Che da fuori riflessi Allora 1.060 su un 45-60 c'è mio possesso E non la sfrutterei Allora 1.060 che c'hai su un 45-60 L'ha sfrutti e non la sfrutti Secondo me se alcune cose non la sfrutti Poi fai te Bene Secondo me Come poi mette un processore a 60 euro con una schiavita Mi fa un po' da con le bottiglie Poi mi dice No perché fa botto a neck E grazie al cavolo Sta mettendo il processore che è buono per aprire i pdf E poi dice Dicono se si gioca Non è che Qualcuno ha messo in giro sta voce Ma non è bello Sono questo qui che cavolo creano a fa questi processori Ma lui è fai scelto Si è appunto Allora Raga sono buoni i monitor AUC Hanno un buon pannello Andrea Si ti posso dire che hanno un buon pannello Se Quindi comunque scelta tua Buongiollo buongiollo Disse Luca Giurato Si ce ne abbiamo una Cristiano è arrivata ieri Prezzo mi sembra 209 Poi se vieni ci mettiamo d'accordo Ci mettiamo d'accordo Allora ragazzi Vi possiamo preannunciare Possiamo preannunciare Si Vi possiamo preannunciare che Ci stanno per ritornare in negozio Gli 8000 e 7k Allora ce n'è già uno Ce n'è già uno il negozio Già sta caricato sul listino Quindi devo trovare sul nostro sito Qui sopra trovate insomma impressione Tutto 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 quanto Però ci stanno arrivando in una buona quantità E quindi rifocilleremo Riempiremo E noi facciamo il rimpinguamento Dello scaffale Quindi la scaffalazione Verrà riempita dai nuovi processori La scaffalazione La scaffalazione E quindi Non ve la fate sfuggire ragazzi Perché se rifiniscono dopo Vi trovate un'altra volta a Piaña Di nuovo pure stavolta Non ho preso Mori Aspetto a dicembre Quindi se state lì in procinto Di acquistare Buttate un occhio sul nostro sito O andare sul nostro sito E mettete avvisami quando torna disponibile Potete mettere la mail Così vi arriva Ok? Allora Ciao raga Si può fare un Hikintosh con X299? No Non si può fare Non è stato certificato da Non ho scritto No Tu ne sai qualcosa riguardo No beh vai sul sito Le toni Cioè il massimo Dove hai installato qualcosa Apple e sul tuo vecchio iPhone Non hai manco mai formattato un Mac Appena entra una cosa con la mela Questo fallo te E poi dai consigli lui Da buono e per il camera Hai comprato un altro Allora Non si trova spesso Se non si trova al pezzo Che devo fare? Scusa E non è facile C'ha 15 anni quel Power Mac Giusto C'ha ragione Igor Eh Igor Bravissimo 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 Allora ragazzi 113 ma abbiamo la metà dei like Scaffa l'azione Cheat Bravissimo Facciamo una cosa molto semplice Eh Guarda non voglio neanche essere troppo cattivo Facciamo Non dico 100 85 like e partiamo Dai vi faccio Vi faccio un'apertura pornografica Dai giusto? No No Ma perché dei Sua fiducia? E conviene che si Chi è che ha chiesto? Wixy The Rassorb E porca miseria Maravissi i bench Cioè quella L'overclock va più della 1080 L'hanno fatta uscire in sordina C'aveva la ragione Stephen E comprano E quella dovevo dice Stephen E dovevo dice Stephen No no ma che te lo devo di due Perché te l'ho detto Ho dato di no? Ah siete fantastici Siamo da tanto tempo e credo siano i migliori Con Blink su YouTube Italia Grande grazie Grazie adesso Anche noi lo crediamo Il problema è che i numeri non ci danno ragione I numeri non ci siamo Comunque va bene Però va bene va bene Io ho messo like Bravo Claudio Ma quello lì è il tuo È il tuo dovere Tu entri di mettere like Non è una cosa che È il tuo dovere Like ragazzi Forza vogliamo i like Allora Alessia questa è Perché tu guardi video inutili Allora adesso dimmi Mandami un link con la 1070 Ti E un link con la 1080 Allo stesso prezzo Mandamelo E ti faccio moderatrice a vita Ma guarda Io ho visto che Alessia ultimamente Si è fatta un'idea tutta sua Del mondo informatico Leggo cose Intanto guardo sul gruppo Telegram Perché non lo sapessi Te la dico io la verità Te la dico io la verità Che dice cose strane Vabbè lascia Te la dico io com'è andata Hanno fatta la scheda Più o meno è andata così Quello il cinese che la stava qua Non stava lì Però la salta Io prendo questo Adesso io mostro il chip nuovo Faccio Poi adesso prova Oh porca puttana Questa va più di 1080 Ah cosa fanno noi adesso? Si però E siamo andati a dare le restrizioni Non ha già la miseria E cosa fanno noi adesso? Capo E noi Io da un clock Il capo è romano E fai dai Lascia così da che tanto va bene Chi ti pare che muove il clock In una scheda del genere Fallasci così te sta proprio Ah io manda tutto uguale Manda tutto uguale Manda tutto uguale Uguale? Sì 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 Va tranquillo Carica 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 No se ne accorgono Carica il furbo Se fai ucciso la 1080 Non va meglio la 1070 Di Non ha la stessa capacità di crescita E' come se la scheda la 1070 Di Ragazzi esce downvoltata Cioè esce frequenza stock Però c'è un dissipatore Che le consente di Quindi La 1080 invece La Gaming X Esce già spinta Per quello che è Quindi sì si può fare overclock Su una 1080 E ottenere una prestazione Naturalmente leggermente Superiore alla 1070 Di Perché sennò non si spiega La differenza di prezzo Che è circa 150 euro in più Quella di una 1080 Però comunque La 1070 Di Ha un grande Margine di crescita Rispetto al bench Che si vede Ragazzi va molto più D'una 1070 Costa poco più D'una 1070 Costa meno di una 1080 Se la percroccate Va come una 1080 Cioè E' la scheda del momento Non c'è penso Niente da dire Cioè oggi se avevate i soldi Per la 1080 Ci mettete sopra 30-40 euro E comprate questa Che stai facendo? Niente Che c'è? Noi zippe laterali Si ho fatto quella laterale La tasca sola Sembra l'altra posta Quelle nuove no? Con la tasca sola Ma io c'ho ancora La versione vecchia Quella dritta Si 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 No questa qui Quella nuova Allora comunque Ne è arrivata ancora la scheda video qua Cioè Non... Manca una scheda video Non c'era il cartone? Non c'era Ma che per caso devi staccare prima? Si Si Lo devi staccare prima E me l'ho scordato C'è uguale macchina Per un attimo uscire Vabbè vai Tranquillo Ma esceva fuori uno che spara Si a me per forza Allora Per i nuovi cimi consigliate Iniziare dall'alimentatore Ma inizia un po' da dove vuoi Nel senso che tanto L'importante è che cominci Allora siamo 82 Abbiamo 82 Like Ragazzi Se l'è andato da Dai Io me la snoccio Mo che se è levato dai sca Andiamo Ve la faccio vedere Cominciamo questo assemblaggio Che sono le 5 e mezza Io la necessità me ne voglio andare Quindi Allora Questa è la X299 Che già conoscete Perché ve l'abbiamo già fatta vedere Quindi Dove sta? Dove cambio a campo Vabbè la faccio vedere qua Questa è la X299 Che già conoscete Perché l'avete vista In un altro live Un altro video Quindi Andiamo a vedere Allora 8700 7820X Niente Dipende Quello che ci devi fare Se ci devi fare Montaggio video O comunque ci devi giocare Per giocare Per fare un PC Devo utilizzo casalingo E anche fare delle piccole Compressioni video Cose varie Insomma Lavoretti Anche di editing Puoi pensare di prendere L'8700 Se ti serve invece una scheda Un po' più Un processore un po' più professionale Votato Per fare quel tipo di lavoro Allora ti consiglio di andare sul 7820X Allora Eccolo qua Allora questa qui è la X299 Sly Plus Di MSI Con lo Shield Come vedete qui Abbiamo 8 slot 8 banchi per le ram Poi abbiamo Qui troviamo Tutta la strumentazione Che abbiamo 6 prese Satara Quello che vedo da qua Che sto io Guardo il monitor M USB 3 Abbiamo 2 gli agganci Uno laterale E uno Questo qui da sopra Questo qui è la presa On board Per l'USB Type C Quindi questo qui È il Type C Poi Cosa altro abbiamo Una fracca di attacchi Per le pentole Quindi sopra abbiamo Pump Fun Qua Ecc più Fun E sotto ne abbiamo Qui sotto Dov'è? Dov'è? Qui sotto Ne abbiamo 3 1, 2, 3 Quindi ne abbiamo tantissimi Per attaccare Due slot M2 Uno senza lo Shield Questo qui E uno con lo Shield Poi questa è invece Il retro Vi ricordo che le X299 Escono senza uscita video Non hanno L'uscita video Quindi non hanno presa HDMI O quant'altro Escono anche con i tasti Questi qui per i BIOS Che sono appunto BIOS e CMOS Per fare il CLERCMOS In caso di necessità Lo Speedif Anche l'uscita ottica Due prese di rete Type C 3.1 E 3.0 E chi più ne ha Più ne metta Questa è l'introspezione È RGB Sì è pure RGB Perché queste Queste lignette qui sopra Si illuminano l'RGB E anche queste qui Che poi non si vedranno A chi ci sarà la scheda di fronte Quindi Ok Guardare Telegram Dice ok Ci ha mandato le cose Perché bla 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 Stai ma la Ho mandato le cose Perché bla 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 Oddio l'iPhone X Ah non è l'iPhone X Ah attenzione stai Il braccialetto L'avrò bruciata Adesso lo andremo a scoprire Intanto mettere il braccialetto Così non C'è una porta Teghiamo una porta Ok Nel frattempo io faccio questo Prendo la scheda video La scheda madre Sì Sto bruciando La scheda madre Una domanda Veramente è un DVD Se è così non ci posso vedere Sì è così È veramente un DVD Purtroppo è veramente un DVD Allora andiamo a bombazza su una Dov'è? 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 Oh Andiamo a bombazza di qua Allora scendiamo Scendiamo di uno scalino Così Sto un po' storto Adesso ve lo faccio vedere bene A cosa servono due schede di rete? Beh Due schede di rete Alcuni li utilizzano Con diverse impostazioni di rete Settando diversi IP Per lavorare appunto C'è ma stato utente per un PC su 15 anni Certo che c'è ma stato Anche da di meno Quindi servono anche per lavorare con Salto e skater Possono servire in ambito Appunto quando si fa una workstation Togliamo la pellicola questa qui Molto Molto bella questa Questa La metto a dire così Wow Poi Oh Siamo tanti Siamo tanti però non state mettendo like ragazzi Quattro sacchi Ah no quello c'è già scritto Bene 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 Tolto Ah c'è un'altra C'è un'altra C'è un'altra Il processore Il chip grafico Intel all'interno Come troviamo sui processori Quelli lì Il software 1151 Quindi per capi lake Coffee lake eccetera eccetera E su questo infatti Sulla scheda amare non è previsto L'uscita video Ok stefano Ok stefano ho collegato sulla mia motherboard il connettore per l'audio frontale ma se inserisco una cuffia o un mic non vengono elevati può essere il cavo danneggiato se è possibile è possibile cambiarlo Metal master Metal master devi controllare se hai collegato Se hai collegato il cavo dipende quale case hai se ha ancora la funzione del doppio aggancio AC97 o HD audio Se ce l'ha quale di due ha collegato e sul bios della scheda madre su quale hai impostato E la modalità di uscita A meno che non l'hai collegato male insomma Avete mai montato un Treadripper? E no GDB no Non c'è mai capitato Quindi eccola no Nessun matto ancora si è mai spinto oltre Una volta la scheda amare non era sulla scheda amare? Una volta C'è sempre stata una scheda amare in realtà montata sui diversi pc Poi il video integrato Si è vero Si ok ho capito Quello dici tu Marcello Una volta il chip grafico Non era gestito dal processore Non stava all'interno del processore ma stava sulla scheda amare L'uscita del video integrato Poi l'hanno incluso nei processori E le schere amare forniscono le uscite Però se non c'è gli da la cpu stessa Quello è vero Ciao Antonio Nasto Stai provando il nuovo Assassin's Creed? No ancora non ho avuto modo Sto giocando a Destiny Destiny 2 Questi giorni Mi sto divertendo Ok Io intanto allora vado a scartare questo 7800X Prendiamoci un taglierello Allora Vai così Lo apriamo Lo apriamo Mi vendo l'adesivo interno a 10 euro Chi fa una donazione a 10 euro glielo spedisco Composta prioritaria Questo qui ragazzi Chi lo vorrebbe avere? Vai Donare Donare 10 euro lo spedisco Allora Lo scartiamo Questo vedete che è più grande rispetto al coffee lake Molto più grande Questa è una via tra Guarda davanti grande Sembra Cioè il Threadripper è ancora più grande Quindi è un disco a due e mezzo Tipo una baranda del genere Stiamo alla 0,270 Sly Plus All'attacco per l'evento RGB Oddio Sai che non lo so Gerardo se ce la dovresti controllare sul sito di MSI se nelle specifiche lo dicono Per il Mystic Light La moda per un naso è prevede solo l'audio HD Ed è abitato da bis Allora può darsi Metal Master che è rotta È rotto il chip frontale se non ti rileva l'inserimento Intanto io vorrei sganciare il doppio cancettino che ha Ecco qua Va a togliere la mascherina Attenzione che i piedini Questo processore va inverso che la scritta Va sotto sopra C'è la freccia qui in alto a destra Non si vede Non ho mai capito a cosa serva C96 Era il vecchio sistema non era HD Andiamo a mettere in posizione così Entra Vai E richiudiamo Ok Vai così E chiudiamo il secondo E abbiamo messo il processore Chiudi questo Poi Stai una domanda SSDMV2 Toglie banda l'eschiere di video Beh si Lavorando su PCI Express E ruba delle linee risorse Quindi bisogna sì In caso si mettono più schede video Bisogna comunque controllare Farsi un attimo due contarelli Manco Me ne sono andato un attimo Già da questa metà posto Vai Ma pure fregata Ma la farete mai una fottutissima recensione su una 0 370 Godlike Quella moto tra un po' fa pure il caffè E il problema brand o the player è che nessuno c'è ancora commissionato una scheda che costerà sicuramente circa 600 euro Quindi aspetteremo la X299 Godlike l'abbiamo montata più di una sia la Carbon che la normale Poi vedremo vedremo andando avanti Ah quella che c'ho qua Ah Ah Senta H Ah Senta H Senta H Andiamo a montare NWME PCI Express Ma come c'ha parlare come una persona Si dice NWME Chi? NWME 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 Ah in inglese And No NN V V V NN Me M No perchè la E si dice I Quindi MI Quindi diventa MI NWME Prova Repeat with me NWME Sì NWME 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 InV hopes And I'll put the player qui Metto On the motherboard this Okay Vai Chiappa caccia vita qua Dai Qual e il caccia vita duco preferito Vediamo vediamo aspetta 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 mo mi dico va tutto il gibbonio No vediamo Chi indovina qual e il caccia vita di Stefano Che Qual e il caccia vita preferito di Stefano Che forse non lo so manco io Ma non lo so C'ho la mia idea vediamo il primo che risponde correttamente nvn me qual è il cacete che Stefano preferisce utilizzare per assemblare i computer si potrebbe essere Metal Master che è il connettore audio 9 pin che è danneggiato, potrebbe essere vediamo se risponde se sono sparmati su una volta male ragazzi vediamo se lo indovinano e non lo so un bel case micro ATX Master Lite 3.1 Danilo 2 va a vederlo sul sito, impara l'inglese con EasyPix facile e veloce, fast and bellox no ah easy and fast o fast and easy infatti si chiama EasyPix cioè noi in inglese che già stiamo avanti allora siamo rosso no non è rosso grigio arancione aspetta, il pennello allora per fare un lavoro grande ci vuole un pennello grande qual è il grigio arancione qua? che poi ce ne stanno altri, il problema è questo che stanno pure da qua va bene avanti? si abbiamo il Delude, il Delude, il Dottor Delude qui è poggiato un termostato per l'acqua questa è la fascetta per la testa per la GoPro abbiamo l'altro tool per deliddare forbici, scotch questo è un bisturi poi troviamo dello scotch dei pettinini, altri cacciaviti vari guardate quanti sono e questi poi abbiamo le cruschelle qui frollini bio di farro per Fabio guarda questa è rovinata, sta messo malissimo l'iPhone X di Fabio che sta là dietro non si vede poi abbiamo voi che vi stiamo vedendo guarda che bell'effetto e poi niente basta torniamo qua ragazzi Fabio guarda Telegram adesso come torna lo vediamo io ritorno a montare il mio il mio SSD allora fai così comunque il mio caccio di riferito è questi ragazzi grigio, ho un montanopolo sul palco del Romics con questo io ho chiesto esplicitamente a Fabio ho detto me lo diano a prendere voglio quello ok prendiamo due tre cacciaviti allora, allora quello più lungo Brando del Lyer che te conoscessi allora vai così andiamo a svitare qui no non si vede cavolo Fabio mi ha spostato tutto cose vai andiamo a svitare qui la vitarella per l'M2 per lo shield la togliamo quando lo andiamo a togliere lo sganciamo andiamo a togliere la pellicola questa qui del pad termico così poi spostiamo spostiamo la basetta così il cacciavite RGB lo dovremmo inventare ragazzi che per i 24 novembre su Amazon ci saranno sconti anche così muovere visto che c'è il Black Friday e che ne so Fabio io vendo noi abbiamo un negozio che vendiamo non sappiamo poi come va l'andamento di mercato su Amazon o su altri siti Ale sta lavorando non glielo aprire Telegram no vabbè lo aprirà dopo infatti no ah sì 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 vai tranquillo ma perché Ale se scalda sempre così tanto non aggia mai miseria o con gli eseri può dire una parola allora fai così Andrea si è sbagliato a scrivere RGB GB bravo così se ne pronuncia e ripeti vai questa siamo pronti lo andiamo a mettere in posizione con la vitarella quindi lo fermiamo è buono avvitato questo ecco qua via anche questo lo buttiamo qui come già arriva Fabio e sistema e sistema vai così stavo a scherzare stavo a scherzare allora andiamoci a metterci anche le RAM andiamoci a metterci anche le RAM andiamo su io comunque arrivo troppo ma noi facciamo facciamo anche noi dei sconti già stanno sul nostro sito se andare a vedere il nostro sito che trovate scritto qui in alto troverete dei prodotti che vi stiamo spuntando mano o mano aggiungiamo altri non facciamo proprio Black Friday l'anno scorso mi sa che l'abbiamo fatto non mi ricordo però o l'anno scorso o due anni fa non mi ricordo allora le RAM su questa scheda madre vanno messe due a sinistra della CPU e due a destra perché appunto ha otto slot per le RAM le prime due a sinistra non vanno messe sul 2 e sul 4 ma sul 1 e sul 3 perché se andate a leggere la scheda madre possiamo vedere dov'è che qui c'è scritto First 1 3 perché c'è scritto A1 B1 poi andiamo di qua ma troveremo C1 e D1 quindi comunque qui vanno su 3 e su 4 invece di qua vanno sull'1 e sul 3 quindi intanto ci remontiamo così prendo un kit vediamo anche l'altro è una copertura che c'è manca Francesco e non si capisce non si capisce che questa cosa mi puzza un pochettino ho dei dubbi o dei dubbi che potrebbero essere la stessa persona in cambio in cambio dov'è sfruttata questa build questa build verrà sfruttata stai un palazzo dal migliore grande brand other player grandissimo questa build verrà sfruttata per lavorare appunto con la grafica e quindi appunto a un video a quadro non so che cosa ci fanno di preciso ma è una workstation bella potente per poterci lavorare non ci giocano per niente che stanno a mettere una quadro la P5000 ma ancora ci spuzza poi editing si si è vero è vero buonasera Gioe Vassili grande Vassili Zayzef grande grandissimo allora fatto questo abbiamo montato un po' il tutto sulla scheda mare quindi RAM ci avevo messo registro SSD abbiamo messo tutto che ci manca il masterizzatore questo è l'oggetto anni 80 masterizzatore con presa asata attenzione vediamo che masterizzatore CD DVD non fa neanche i Blu-ray non legge i Blu-ray eh al costo di 18,50 euro eppure salito di prezzo lo possiamo trovare comodamente sul nostro dito per chi lo vuole comprare per capodanno che ha necessità di lanciarlo dal balcone no? ok questo lo mettiamo qui da parte poi togliamo la scala madre poi oh bella Andrea De Grigodio buonasera buonasera poi X299 esatto Vasilia è un X299 con il 7800X montato sopra non so se Fabio ha cambiato le descrizioni anche su Twitch spero di sì mi saluti Simone e Corrado ciao Roberto salutiamo Simone e Corrado gli mandiamo un bacione grazie per ci seguite allora poi quando vi tornano gli 8000SK eh gli 8000SK non c'ho ancora una data certa però vi posso dire che invece le 8000SK ci tornano a breve brevissimo ce l'abbiamo ci hanno già spediti quindi ci arriveranno sicuramente lunedì martedì quindi sul sito torneranno disponibili e e ci tornano a breve anche gli 8000SK gli 8000SK non si so dire ancora di preciso ma come mai non usi più RAM HyperX bella domanda Dario il problema è che non si trovano è poi un problema grosso delle RAM di questo periodo stiamo diciamo accattando quello che troviamo perché dai vari fornitori ci sono o che il prezzo spropositato o magari trovi il prezzo ancora che è competitivo ancora sul mercato per l'oscillazione che hanno le RAM in questo periodo che però non sono HyperX quindi prendiamo un po' quello che troviamo mi saluti ciao tu amigamer ti saluto ciao ciao una quadro da gaming perché dove c'è gaming che c'è il meglio grande lo leggo benissimo quadro quale c'è spettacolo assomiglia al mio bella tecnologia quasi come i floppy esatto bravissimo Marcello questo qui dentro se apri penso che ti danno ancora un Windows 95 ne ha legato poi ciao Gianpiero ciao una volta ho lanciato un lettore floppy disk dal balcone però il lettore floppy va bene che floppy lo fai proprio volare tipo frisbee invece floppy disk ancora spinge allora siamo tantissimi però abbiamo soltanto 98 like non abbiamo ancora sforato i 100 ma come mai questa cosa come mai questa cosa cosa cambia dalla quadro alla 1080ti hanno architetture totalmente diverse in fase di calcolo cioè una 1080ti è una scheda da gioco prigione al meglio di sé comunque sia sul 3d insomma quando si va a giocare la quadro farebbe schifo schifo no però comunque una scheda che costa 2000 euro non andrebbe come una scheda che costa 700 quando si lancia un gioco è perché nasce con un'altra architettura per fargli fare un altro tipo di lavoro quindi no se è una persona una domanda veramente è un dvd se è così non ci posso chiedere si è un lettore dvd e masterizzatore dvd lo gli servono perché magari hanno qualche applicativo questa intanto qui è la invidia quadro p5000 ragazzi se non ci vedete scrivete su internet quanto costa questa scheda è una cosa impressionante impressionante impressionantemente poi chiedo scusa per la domanda probabilmente è già stata fatta per fare il finanziamento bisogna venire per forza al negozio no vellum non è necessario per forza al negozio però mandaci una mail perché possiamo fare anche a distanza ci devi mandare un po' di cose ti viene mandato un codice OTP sul cellulare per poi poter poterlo inserire in fase di pratica e vedere se ce l'accettano grande vellum si è iscritto grandissimo grandissimo amico gamer ciao buonasera benvenuto bentornato sul nostro canale ma solo a me su 4x7 memoria presi 2x7 memoria per istituzione errori di TuneMemTest sempre con segre beh sei stato un po' sfortunato effettivamente perché generalmente non si rompono così facilmente però vuol dire che è uscito un po' un po' sono uscito magari una serie fallata insomma ma perché sono tagliato a metà andiamo un po' più su o così bene l'opposizione è la P6000 appunto questa è una P5000 abbiamo una ciccia proprio pesante insomma quanto fanno schifo l'evento linguazzo da una 10 non rispondo fai vedere il case allora il case ragazzi è un cooler master silenzio silenzio no no si chiama silenzio il silenzio del 652S il modello questo qui è un case totalmente silenziosissimo fatto apposta guarda con i tappi proprio talmente ha tappato bene che mi riesca a aprirlo niente vabbè c'è un tappo laterale c'è un tappo anche sopra aspetta poi vi faccio vedere così ciao guglielmo maverick ciao ciao grande gli n0 xd kraken sono prodotti validi secondo te si sono validi ma costano tanto costano troppo per essere un aglio quindi umberto catalano si è iscritto grande grande robert de liro grande grandissimo grandissimo consigli di fare il pc anche a 14 anni dipende se i tuoi genitori te lo consentono perché no naturalmente sempre basandoci che insomma a 14 anni non puoi farti il pc della vita insomma no ciao the jovey game ciao ciao bentornato bentornato qui mi raccomando i like like voglio tanti like perché comunque abbiamo una configurazione che merita a non capire tutti i giorni come vedete questo case è tutto chiuso tu dici ma cava ma tutto chiuso è bruttissimo allora siccome deve andare in uno studio per lavorarci appunto è strutturato in modo e maniera che deve essere silenzioso oh vedete ah lo sportellino all'interno troviamo il fonoassorbente questo lato qui questo questo è fono materiale fonoassorbente che serve per ridurre il rumore qui troviamo appunto lo sgancio per il filtro le ventole frontali qui troviamo i sportelli per i lettori qui sopra con il tasto di accensione e qui naturalmente questo non è un case ragazzi calamitato non è un case che dite ma ragazzi è brutto questi non guardano l'estetica guardano la funzionalità quindi voi vi dovete un attimo medesimare a volere immaginate uno studio di audio che voglio il pc che non si deve sentire ok non puoi mettere un case col vero temperato con la grata sopra con le ventole da per tutto rgb che non gli interessa come è fatto cercate ogni tanto di capire scindere un pochettino la tipologia dei pc che vengono costruiti in diversi ambiti questo è un pc da lavoro quindi il case è un po' più serio come per dire ti dico una cosa tu che fai il venditore di case non ti compri una macchina 2000 benzina 180 cavalli perché se ci fai 10.000 km al mese cioè al mese alla settimana ci metti dentro pure l'olio però è per friggere paratine devi farti una macchina un po' più delicata che è un gpl non cerchiamo sempre la prestazione massima allora come faccio a sapere che alimentatore prende le serie grandi dipende che configurazione vuoi fare è importante che prendi l'alimentatore secondo me ormai ti devi attestare tra i 6 e 50 tra i 6 e 50 700 watt buono 80 plus se possibile bronze gold insomma chi più ne ha più ne metta e e così sicuramente sarai in grado di farci qualsiasi tipo di configurazione il culto del cocco a cubetti grandissimo cioè ragazzi a che punto siete in realtà guarda culto del cocco faccio un rapido riassunto abbiamo appena messo sulla x299 che abbiamo qui in mano anzi la faccio vedere a quest'altra gamma da qui in mano abbiamo la x299 con ssd montato qui sotto allo shield il processore già messo le ram già messe ok in realtà siamo appena iniziato poi credo di avere seri problemi l'altra settimana avevo guardato metà dei vostri video beh ma così devi fare Umberto devi andare lì spaccarti di video e ti fai una cultura allora se hai ragione la riser card da Thermaltek non va bene sulla 980 Ti e te l'ho detto non riesce a passare quando comprate Thermaltek 4 p3 o p5 quando mettete riser card per mettere la scheda in verticale purtroppo bisogna spenderci perché non ce la fa se mettete una scheda grafica di un certo livello a passare la banda passante non ce la fa a far funzionare bene 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 con la scheda allora dicevo per la MSI Trio 1080 Ti in realtà su coordinazione la possiamo prendere muore se è passato lo dice arraperate da qualche giorno fa l'Intel in futuro si fornerà schede video di fascia alta non lo so non lo so se le fa sicuramente le farà in combinata credo con AMD come ti dicono voglio mettere il chip AMD è stato annunciato che verrà messo all'interno dei processori Intel quindi comunque è una collaborazione a livello grafico immaginate che stanno unendo poi le due le due forze non diventerà mai un unico marchio ok si dice c'era compromessi ok di qua quante linee PCI supporta questo processore questa è una bella domanda dovrei andare non mi ricordo se 24 dovrei andare a leggere non mi ricordo non mi ricordo se ti piace da 9 a 1070 però poi se riesco bene Fabio che mi informo un attimo te lo dico mi piace meglio AMD o Nvidia dipende 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 dall'utilizzo ormai non c'è più questa scissione delle cose dicevo 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 mi piace la 1070 Ti quella nuova si mi piace in realtà è uguale a una 1080 tipo quella che ho qui a casa esteticamente però comunque ottima potenzialità secondo me è un'ottima scheda vale la pena ci sarà un video con AMD Step lo so purtroppo lo so destra comincia e poi Fabio disgrida perché leggi troppo e fai proprio sta davanti a parlare ok poi qualcuno mi ha chiesto prima Giancarlo X Max se il flusso di areazione è un po' condizionato dato appunto la chiusura di questo case XFC normale è un case chiuso si riduce il rumore quindi low noise però comunque c'è anche meno air flow quello è normale sopra possiamo sganciare questa paradia però questa è una parte in plastica normalissima come vedete in plastica che ci dà accesso appunto allo sfiato superiore di questo case con questa grilletta che si può sganciare per consentirci poi di andare a montare un radiatore fino a 240 mm se ci fa montare un radiatore perché le ventole e le supporte un radiatore non sono sicuro questo bisognerebbe leggere specifiche non vuol dire insomma che se c'erano due ventole ci fa pure il radiatore però mi sa di sì poi il dietro ovviamente questo si richiede il dietro di questo case è strutturato vabbè sotto abbiamo sotto abbiamo filtro due filtri ma li passiamo di qua abbiamo due filtri perché questo qui è per la ventola in basso che si può togliere come vedete questo qui per mandare aria insomma da sotto e qui c'è quello per l'alimentatore questo qui lo mettiamo a posto così scusa c'è un disco ibrido che vanno meglio degli SSD si basta domani che oggi è chiuso guarda che carica il sistema di 20 secondi uso solo quelli 20 20 secondi meno di 20 secondi e io uso solo quelli e guarda che è meglio dell'SSD certo perché l'SSD carica in 5 come vabbè comunque non ce la posso dai questa qua è la parodia superiore che andiamo no per adesso non ce la dimmi intanto ho illustrato un pochettino questo case poi lateralmente abbiamo quest'altra presa per ventola da 14 che è tappata e la posso andare a stappare non mi capisco ci sono 150 persone che stanno guardando questo mega show è mai arrivato si perché io leggo velocemente parlo interloquisco interloquisco con loro si ma non ci stai parlo bene ti fanno mangiare tanto il biscotto andiamo il biscotto devi fare tanto oppure inquadrati sembra un po' troppo plastico questo case ma in realtà è mix tra plastica e alluminio scusate il boccone bisogna questa ma però una cosa bella ragazzi che non vi ho detto a parte il fuono assorbente nella parte frontale il fuono assorbente lo troviamo anche internamente come vedete già preitaldiato messo bene questo si chiama fono assorbente perché fono non per il fono dei capelli fono è come rumore no? rumosità fonia la riviene no? stavo meglio della fai meglio della si a me stai parlavo con quello disco ibrido ecco perché mi se ne va a sportare perché c'è i viti da dentro ma voi l'avete sentito quello del disco ibrido mamma mia certo dovrei mettere la chat dovrei mettere il momento interessore dell'acqua la chat in modo che quando loro sentono le le ate che dicono dell'anno gli possono rispondere loro stessi è vero dovresti mettere un microfono che cattura dai fai il bravo mamma mia punta allora poi la paladina invece ancora nascosta che sei sotto color sit che sei sotto non lo so che c'è sotto anche anch'essa ha il fono assorbente che è bello pesante l'hanno cambiato una volta era quello che si rovinava invece adesso hanno fatto molto sottile quindi sono davanti la tecnologia dal vecchio silenzio voi non lo sapete ma quando non abbiamo aperto il nostro vento andava talmente lo facevamo noi ammetraggio lo facevamo noi ammetraggio lo incollavamo dentro i case la drittezza unica però non me banni marcello ora gli scoppia il pannello anche se non è vetro simpatico hanno saputo tutti che ti esplodono i pannelli ma com'è e perché chi è paese piccolo la gente parla gente parla affari su perché non ho fatto foto ragazzi ah fabbio di andare a vedere telegram dice adesso all'interno di questo case ve lo faccio vedere sostanzialmente hanno messo 880 slot per i dischi vedete 2,5 2,5 2,5 2,5 no 3,5 3,5 3,5 poi la cosa carina di questi è che si allargano si stringono per far entrare il disco quindi non c'è bisogno di mettere i biti di usare biteria varia ok e è fatto strutturato in modo in maniera che in caso questo non ci dovesse servire questa struttura qui la possiamo smontare e tornerla no 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 perché mo me fa allora capisco il tuo impegno però innanzitutto mi devi l'incassi di che pagano l'iva questo è qui se hai messo in me mandi questo la seconda è tu non me puoi mette paragonare una scheda di una 1070 ti di marca con una scheda della inno 3d mamma mia ragazzi io ho letto cose sul gruppo c'è uscita la pallet e dice ah raga la pallet ma ringraziate che ha chiuso point of view perché sono stata a comprare quella che scoppia una ogni sei mesi la pallet la pallet è la marca più basi non lo offendo più che c'è sul mercato ok cioè quella che proprio di frequenze se stock sono 1200 quella parte da 1100 non mi è stata a comprare niente capisci no ne ho fatto il ferrari la scocca sopra sotto che c'è il motore da avanza poi se tu merinchi purtroppo un sito tra virgolette non pulito quindi che non applica prezzi destino perché pagano lì vallussemburgo o dove che sia il problema qual'è che quando questi siti avranno la 1070 Ti tu non puoi paragonarlo col prezzo ufficiale perché se costa 469 i siti questi diciamo non puliti avranno un prezzo di 399 cioè guarda il mercato sarà 469 meno il 22% d'iva e torna al discorso torna a me ci sono sempre 100 euro di differenza metta come ti pare giusto tu non puoi paragonare il prezzo della 1070 Ti di listino che è 469 a un prezzo con l'iva hai capito no? perché poi su 500 euro sono più di 100 euro perché noi in Italia non c'è mai le regole che preservano queste cose perché se no adesso tutti i bevuti tutti al gabbio vai con le ginacelli allora o San Vittorio che è stato a nord insomma allora poi cambi ragione sociale l'hai fatto? eh appunto qui è facile prendere testa di legno quello che sta a vivere è BAMAS se c'è niente che è protestato 100 volte ma pure un anno basta ma appunto come tanti gli fanno c'è la moto zappa per me la acqua di là in un redd è la marca è la marca di un frigorifero esatto c'è la moto zappa per me la acqua di là allora ma come ne vengono perché eh vabbè allora allora 150 spettatori ne salgono e ne scendono l'importante è che che rimangono costanti però abbiamo 119 like quindi ci sono ben 20 31 ma che c'è problemi che la matematica no una cosiddetta 1 2 3131 like in meno delle persone che abbiamo quindi ma tu non puoi vedi questo non è non puoi farlo a livello matematico questa cosa perché qualcuno ti harà messo like e già sarà uscito le kfa 2 come sono sono quelle oddio Andrea Parnieri è uscito Andrea questo è per te godi popolo godi ce l'hanno chiesto qualcuno ce l'ha chiesto porca miseria è male che ho preso hai capito davvero non è solo la scatola ci sta dentro guarda è sigillato guardalo è sigillatissimo se vede il professor c'è un buco guarda ah ci sta dove ah eccolo una scatola è un bucchetto ci sta è lui ed è un mille che 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 è sto 1700 1700 non ips no no allora a 200 like andiamo a comprare uova si esatto rimane in vigore la legge dell'altra volta se la andiamo a comprare a parte che no 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 come era cos'è lo se fai se applichi una pressione tale nei punti velocisti da sotto a super non si rompe non si rompe quanti like erano 200 200 ci faremo un viso apposta ci faremo un viso apposta sbrigati a chiudere la live no perché c'erano 144 spettatori fai fast quello è il Ryzen 7 quale il 1700 amico gamer ma qualcuno che si iscrive che voglio di vedere eh l'ho visto io l'ho visto l'ho visto no ragazzo ma mi piace se effetti ah mi so fatto un culo così per trovare ma non è tanto questa modella con le istruzioni ma non è vero no non ci fai eh vi piace gli effetti nuovi che abbiamo messo o vi fanno schifo o non vi interessa animamente perché no sì ma dami importanza a questo vice che costa 4 su chiudere ma non mi scassai sto a parlare con loro non ci parlavo da un po' quello mi stanno andando con un pelle scatole con gli ischi ibridi poi è una certa hai sentito che gli ho detto no mi fa no perché io ho detto senti senti non me devi convincere no ho trovato il paladino dei dischi ibridi e dai è una certa eh guarda ho provato poi mentre parlavo che ne la facevo più ho detto senti te lo posso dire si ho aperto amazon ho scritto disco ibrido manco escono fuori quindi dove lo va a comprare dove lo va a comprare non lo so ora vi do il go like perché 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 grazie a Giampiero così meritano a comprare le uova no ma le uova ragazzi è una cosa fichissima ma live allora aspetta mo c'è un problema allora se i like i dislike ce n'è uno solo e non l'ha messo andrei guarnieri perché gli ho fatto vedere il processore amd chi è l'ha messo non ho manco risposta oh è svenuto per me è svenuto vedete un po' ci non è scappato non mi ha risposto maledetto per cosa è concepire da questa wallstation è una wallstation per lavoro di montaggi grafica no quell'oro lavorano con il con il VR grande grande Michele lavorano col VR quindi veramente e pensa poi li ho messi in contatto con quegli altri ragazzi che fanno architettura si 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 che erano molto interessati quindi mi pare di che faccio una joint venture a distanza con i miei pc capito il mio pc che calcola per un altro pc senza saperlo a lega a 200 like comprare uova si lo faccio che case è io ho messo like com'è la K oh ma andrei è da pieno ah non è male quella la KFA2 che modello è wow che schifo Ryzen 7 quale meglio Hasrock per Ryzen bella fatta la cocca la coppia che scopre bravo bravo applauso è un salvo play si è iscritto è squalito ora fa ah porca miseria è vero che non ammala mai no la scatola la posso toccare e Stefano che si contaminerà le mani beh visto la foto su Instagram se ancora non ci followare su Instagram andateci a followare per le cose che concerne buonasera ma come io sono quelli che aveva il Ryzen dai un'altra volta sempre a prendere in giro ma amd ma tanto ha fatto un buon prodotto va bene vai mobogill 1070-1080 abbiamo parlato fino adesso ora vi do il like ma live per 21 noni si fare le live per i 21 noni ma non credo perché sei sei venuti pochi che hai il 21 noni quindi lo vedrai sempre con le bande laterali nere non te lo può spalmare sul 21 noni no? se usciamo il 1920 per il 1080 come fai come consigli di montare le ventole di un AIO240 su un S340 Elite attaccato al KESS o a RAIATORI in estrazione o in espulsione in estrazione o in espulsione ma d'altronde se loro guardano te poi è questo quello che impara ma io dico push e pull tu ti rendi conto che adesso no ma quando c'erai tipo 30.000 iscritti tu sai quanti ragazzini parleranno male per colpa tua ma è giusto ma è giusto la mancanza di istruzione genera veramente lo schifo è giusto tu devi capire cos'è giusto e sbagliato io ti porto sullo sbagliato poi sta a te capire quale è lo giusto andrea ma allora andrea come quando lo facciamo al PCMD ma pensi che quella era una scatola cioè andrea te devo farvi vedere non so neanche cosa sono i dischi bravo Marcello se volevo poter rilanciare con un Optane ah finalmente ok sono mesi che aspettavo e aspetterai ancora qualche giorno però sta arrivando i dischi che sono accrediti ma non hanno usato in un ssd eccone la notte ma adesso oggi mi stai veramente facendo inalberare male Ale ma il tuo PC l'hai finito ma foto del tuo PC ma video del tuo PC ma video del tuo PC mi hai sgampato si eh com'è che non arrivano eh i dislike aumentano non lo so mi li so chiamati stef Fabio è vero che la prossima settimana esce il video che hai fatto con Farij si però non dovevi dirlo Davide cosa ne pensai ad un like box io penso che il PC da gaming è sempre il mio mi sembra ovvio ti ho messo like per la prima volta Fabio oh grazie ci sto pure in un like orco giuda andrea se fatevole bene devo facciare oddio non l'abbiamo ancora provato Optane io finché non provo non dico ragazzi non so dire quello che si pensa senza filtro ma no vedo questo ah quello non ce l'hai capito che magari sai no ma ci mancherebbe no ma scatta questa aspetta no non scatta quella sto ancora agganciando t'ho lasciato che te mi ha lasciato che stavamo ancora a chiacchierare ho capito ma l'hai sentito quello dei dischi ibridi e lo devo far parlare quello ma chi me lo fa parlare quello lo ti shotta subito ma non hai capito poi si è perso che mi ha fatto e che mi fa vabbè a me questo lo voglio adesso sì ma questo è quello dei dischi ibridi salve pensavo magari di accoppiarci con un ssd non lo sapevo è lui è lui è lui è lui è lui anzi non so come fa un rito allora non prende in giro ho usato l'alcol pulire il case e si è sbiadito cosa non posso metterci e niente ormai francesca si è sbiadito e quindi non ci può mettere niente ce lo devi rifoderare dovresti brappare il case se sei rovinato il tutto c'è la vorrei comprare una quadro anche io per utilizzo CAD rendering con un 7700 una GTX 1060 asus quale consigliate? ma prendi una cioè a fine ce ne stanno diverse anche la 2000 già andrebbe bene a volte ritornano Tommaso ah lui lui quanto viene la P5000? dosacchi c'è la comprare ok ok ripensate il cover master H500P not bad not bad montante un altro un XP già che ci siete eh belle belle cosa metteci se vuoi è esatto capisco è una scatola hybrid theory che si ciao Giacopix questo che è un silenzio 692S della Cooler Master 652S scusami sarò in giro con il cane ho le cuffie nelle orecchie rito la gente mi mostra strano grande Umberto sembrava tipo una stazione radio ormai adesso ti dovremmo mandare come inviato io Umberto lo manderò dalla gente ci faremo una chiamata in diretta cosa ne pensi di Ryzen ma tipo le vecchiette cioè loro faranno Ryzen e tu ti fai no signora il discorso quello del grande fratello Wip quello che sta succedendo sai Ryzen con Intel non si stanno comunque prendendo bene ultimamente ma io ho sentito parlare sarebbe fichissimo ragazzi devo fare un programma radio allora ma poi questi disci esistono esistevano sono usciti dicendo facciamo il disco leva tutto non vanno non vanno poi allora 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 c'è un disco meccanico da metterci qua dentro questo qui lo sportellino questo si chiude diventando in mezzo o si apre per un disco da tre e mezzo adesso ce lo prendo e ci confiamo subito questo qui questo lo mettiamo qua così disco da storage da due terabyte lo chiudiamo vedete come fa lo scattino guarda ecco qua vedi qui hai agganciato allora esagera ma non ci fa nulla con quel pc ma con cosa con questo pc no con questo pc ragazzi ci si lavora quindi sicuramente non è per casa il conto era per casa l'hai detto si è uno spray no l'ho messo a contare ragazzi domanda il cadetto la presa salare è andata l'altro lato grazie ciao allora oggi la vatela abbracci fa due ora non è che adesso ha la brata di pc e brata di tutti i clienti no no allora poi così poi così e lo rimettiamo e qui in basso qua dentro lo spingiamo dentro così a posto ho fatto questo io ci metto pure l'alimentatore visto che ci sto visto che ci fa fortuna Cryptoloker me l'ha fottuto bene 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 il disco iber 500 per fortuna vedo è stato contento che era il Kraken x52 bel 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 bella io diciamo come effetto però costa un boato veramente costa veramente troppo buono è fantascienza qualcosa per l'hdb si è vero è fighissimo questa cosa per l'hdb allora eccoci qua io tanto sto scartando questo l'alimentatore Corsair RM750i ok vai così abbiamo cavo dell'alimentazione lo togliamo manuali vari li togliamo bustina con viti e fascette queste le teniamo cavettazione varia dentro la bustina il culo a cubetti due ma perché due cioè perché qui sono due utenti uguali uno e due perché mi ha diventato un secondo tempo ragazzi non vedo i miei messaggi che scrivo in chat Guglielmo io invece si li leggo quindi comunque vai tranquillo sentire il commento su Optane tieni conto con lo stesso nome ci sono due tecnologie quella per ibridare un disco meccanico e quella flash pure si si è vero è vero no ma ragazzi lo vorrei provare questo Optane mi piacerebbe prenderlo per testarlo però non so quanto possa incidere non so il disco meccanico il disco meccanico lo fa lavorare lo fa lavorare di tanto come prestazione non so quanto possa incidere in un pc che ad oggi poi magari non si monta un disco meccanico quindi il mio alimentatore quindi non so tra il costo e l'utilizzo che non costa tantissimo tra l'utilizzo quanto beneficio ne dà perché poi considerate che va a rubare un M2 sulla scheda madre che ne so sarei curioso di provarlo sarei curioso di vedere che se poi dopo tu metti quello non puoi mettere un altro M2 ti ruba le linee comunque sia allora questo qui è il cavetto intanto poi dopo non riprenderemo insomma questo discorso prima o poi non ho ancora capito che differenza c'è tra gli HDD vestiti digital black e blue il discorso sono divisi per prestazione diciamo il black è un po' più performante rispetto al blue che è la via di mezzo i corsai Vs sono i migliori i jacks certo V9 ottene combinazione sul disco meccanico eh esatto mi dico gli inventatori qualsiasi non sono molto affidabili non dipende quali modelli esatto come dice Alessia perché ci sono modelli prodotti da e altri modelli prodotti da e quindi credi che so quattro ore che smonto il negozio la gente e nessuno compra niente sembra sembra che vengono ma era quello erano arte sono venuti prima ma sai quelli come andavano nel 2005 2006 che girano tutti i negozi in Roma e comprare un case da 40 euro questo succederà quando va giù internet quando colorerà tutta la cosa ma perché il culto ecco c'era il culto e coca cubetti poi cicciano fuori il culto coca cubetti 2 con scritto ciao e ma adesso il culto coca cubetti 3 ma ciao quanti account hai ma iscriviti con uno a me eh ma si sta dispense che non ho visto e che non ho visto si è comparso ciao a tutti 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 ciao ciao perché sono educati scusa allora vai così intanto sto mettendo i cavi la cavetta ziona sopra la cavetta ziona si sopra l'alimentatore alimentatore 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 mi serve un alimentazione asata basta poi ho finito così almeno posso inserirlo all'interno dopo mesi mesi e mesi me la cavo dai vedi giorgius guarda lo devo ancora montare allora tu lo sai allora aspetta no aspetta allora me l'ha fatta apposta cioè tu hai ordinato innanzitutto hai creato un casino perché questo è il primo pc che montiamo con ryzen quindi questo esploderà sì sicuro magari sì esploderà devi andare a fuoco minimo numero uno numero due cioè tu tu sapevi che noi odiamo questi cosi e ce ne hai ordinato uno ah se è stato commissionato allora da andrea ci ha mandato andrea adesso ti faccio l'imborso su paypal e monti e monti e monti e no facciamo intel sì facciamo così ti sconto 50 euro se monti intel ah no mo ti metti tutti contro ah ecco perché non ne montate uno che siete voi allora che vabbè ormai ormai tanto si è creata sta cosa quindi siamo a gioco siamo a gioco che dobbiamo fare allora ragazzi ho scritto se si fa così ci falzi le stats no no giusto giusto fanno pure 20 va bene va bene uguale quante mail c'hai si sono poi quelli fortunati da uno da un anno con un F il F più 8 dentro le striscia con 30 led e altre preferite che dopo un anno va ancora perfettamente e sono pochi quelli fortunati vabbè non ho seguito ci fate qualche cosa col Serlink non benissimo talvolta ma vedendo le recensioni lasciate stare siamo bravi persone questo è quello che dicono tutti che tipo di windows 10 dove installare su un pc in basa in basa a cosa devo scegliere grazie per la risposta site site dei grandi ok tu lo spiega ti prendi windows 10 in basa accanti ai pc c'hai dentro casa ce n'hai uno metti windows home come ce n'hai 3 lavora in rete stampanti file documenti metti windows 10 pro l'alimentazione va sull'alimentatore eh se gente dopo anni lo ha ancora poi me lo spieghi scambio un msi scambio un msi mercatino con cosa con motorino la qualità è indubbiamente infima cvt per cose base prendi windows 10 home se usi il pacchetto office prendi il pro se sei uno studente ti danno la licenza education ma sembra tipo lo spot quello che trovi sui banner esatto si può fare che è ball management in quel case no quale? questo sta montando lui? si fa ma si fa pochissimo male malissimo perché dietro non c'è spazio scusa cubetti 4 intanto 4 spona il 4 ma c'è una velocità nel creare gli account no ma già ce l'ha lui pensa che logga con uno o l'altro io ho un corset x750 e va benissimo il corset link sull'rm750i non serve ma in realtà non serve in generale è un programma cioè è una cosa che hanno voluto mettere perché si è carino che si incogniti però dai sinceramente ma a che serve è come gli anello questo è l'rm750 gli anello cioè l'hai poi tanto quel chip che ci montano per fartelo vedere tramite l'USD non è che te lo fanno pagare cioè questo alimentatore costerebbe come minimo almeno un ventino in meno senza quel coso sicuro e poi manco non lo posso mettere quindi lo so Ivan il problema è che ce li fanno pagare un botto quei processori perché non si trovano non trovandosi la domanda è tanta l'offerta non c'è quindi quando ce li hanno da darci ce li vendono maggiorati di 30-40 euro e noi purtroppo dobbiamo vendere noi siamo partiti da 4 e 16 ce li abbiamo a 4 e 60 non è colpa nostra non è che però ce li abbiamo ti posso dire che a Roma forse l'unico 8 e 7k disponibile in questo istante è il nostro esatto chi usa ancora il pacchetto office del 2007 che non è su? allora ragazzi io sto messo intanto abbastanza bene ho messo l'alimentazione per la scheda madre quindi 12 volte per la cpu e anche il 24 pin adesso sto passando i cavi dell'alimentatore dietro quindi comunque ci sto mettendo ma no Andrea non era per te era per Georgius sto mettendo anche ah no a parte che mi sa che vabbè mi sorcavo la scheda quindi la sai qual è questa che sto pensando adesso che mi ha detto Georgius prima no? pensa che noi questo pc se usiamo sto Ryzen lo monteremo grazie a qualcuno che ci segue sul canale perché se lui ci segue sul canale ci ha ordinato il pc se no non lo avremmo neanche montato quanti dischi c'è da metterci dentro dopo loro? 74 ci lo lascio no non lo so perché c'è dischi dentro no vabbè però ce n'è uno solo e parte l'SSD questo qui lo potrei togliere vediamo quanto è lunga sta quadro intanto mettiamo la fede 30 al liquido togli alleggerisci è già corsa questo togli togli togliamo 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 vabbè se a Roma ce l'avere solo voi da me saranno arrivati ora i 47 70 bella amigos allora OGIS niente spagnolos fine ho finito gli account disponibili è arrivato al 5 Marco Italiano cosa mi consigliate? io ho una MSI 1080 di gaming x mai montata in scatola scambiate scambiate con una ZOVAC 1080 di extreme allora innanzitutto perché cambiate la MSI a ZOVAC? numero 1 numero 2 non è che so figurine cioè so schede da 800 euro tu non è che mi dici senti io ho io ho buffone tu me dai ma che è? e ce l'hai tolti? avanza capisci no? quanti vinci hanno messo che svita sto coso? allora no stea hai sbagliato l'alimentatore va per la scheda MADRA giusto MADRA che fai sceglie che fai sceglie questo è il rumore di ferraglia rumore di ferraglia si è il rumore di ferraglia brutta se basta un po' se c'è un po' se c'è un frusaglio metti in là che non mi servono che esplosione orco giura che esplosione orco giura allora mi mette due faccettazioni ecco la mettiamo ho un 8700 K ti è il tuo costretto Marco eh allora vai cerchiamo di fare un cable management come si deve no ti credo Andrea dai prima o poi mucchierai un po' di soldi e te lo comprerai te lo comprerai da noi regolare hai le mani esplosive è esploso tutto ecco è rotto tutto lo sapevo è esploso ciao ragazzi ben sera esplosione gioco tanto con Ark Survival oh Francesco Pollina o Pollina entra ma dov'è Alessia in questo momento Alessia ci sei? Alessia scrivi Alessia hai 3 3 2 se Alessia mi scrivi eccola ci sono io ciao mamma mia attenzione per me se sta a scrivere con te anche perché se adesso riuscisse a fare una cosa del genere ciao allora Francesco ti devi andare a rivedere l'inizio della live dove abbiamo parlato di te sappilo poi rimane registrata guardala si si è vero spedire tutta l'aria si si aspetta che faccio un controllo degli IP su Francesco Pollina e sua Alessia si esatto devo fare un controllo incrociato particolare questa cosa eh lo so te l'avrei assemblato un Ryzen con le mie mani Andrea ma non succederà mi dispiace ma qualche hai detto molto io adesso andrea andrea ora che io lo faccio io perché lo sa che io lo farei meglio di te ci metterei forse un giorno di più per la congiunta un giorno di più per la vabbè è un giorno che tu lo prendi un giorno in più mamma mia avete montato no occhio rivedrò la live e inizio la riemesa sì 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 grande comunque secondo me si mettono d'accordo ma che fate dei turni cioè quando non c'è la puoi attraverso la quadro è che voi va aspettate no c'è di duemila euro una cosa è bellissima è una scheda così sottile così lunga con una ventolina così e tutti come scusa cacca la lingua a sbavagliere ciao a rega mai una rima gianna per azione tangiano gianna quindi gianna ma quante di vecette già sto coso ma in sostanza a che servono le tesla a farvi parlare a voi c'è la custodia senza il cd comunque loro dicono senti duemila punta tutto sulla scheda video non c'è un po ciavattella rispetto alla caressa questo è più ciavattella e beh è come la casa con il cestello quello a fondere questa mente il piano guai è un marchio che sulle quadro va da paura ce ne penso è il più importante poi per un periodo ha provato pure a fare schede video g force però non gli ha detto bene tutto senti continuiamo che è quadro che è meglio per vale maximus non c'è differenza trova il clock di un processore dal bios da software esterno perché software esterno si rifà sempre al bios quindi la vai a modificare da un po da meno e basta è attaccata alle tradizioni passo di qua poi c'è un bel dissipatore c'è la sigla che ho detto c'è un bel dissipatore ma non c'è la backpleta è capito? leva le pellicole porno dai vai davanti comincia che prima questa piccola no, e no, tipo geretta no, questa no, questa no quando sei da un pelato del fabio è comparso c'è mai il sottocchermio che ancora sta tolta via 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 il mio l'ho fatto che ce l'hanno entro adattatore di guai hdm adattatore displayport le solite cose dovrebbero da 16.000 adattatori da displayport a tv questa li posso dire che la p5000 è una delle pochissime quadro compatibile col via ma davvero si devono levato e lo so perché con questa progetti il mondo ora qui abbiamo la vendolazione poi vedi no follow us ti dice pny uk fr nd ita è ita vorrei tirarmi un pc per giocare inviare vi scrivo per mail scritto mail no vabbè regala per mail oppure potete consegnarmi subito live guarda è meglio se ci mandi una mail mail facciamo con più calma usa il modulo contatto al sito e tanto che rispondo io questa ma non è in grado di scrivere in italiano lui purtroppo l'ora giunto ma non lo scrive quindi ti risponderò il normale va allora questa così questa così questa così ma questa togliamo questa placchetta qui non vedo un buon futuro fabio per trovare un lavoro in futuro dipende in che settore non fa pure non mi risulta ssd pny mai visti ma quanto non la cambi ma almeno ha i led lgb ma no è una quadro scommetto però non è potente la mia hd 5 380 non credo che funzionalità la quadro è una scheda utilizzata per chi lavora la finisce è nuova appunto allora vai in position figura di fabbio il mio pc del 2010 aiaiaia quindi non ce la fai neanche a guardare le live in full hd quando togli il dissiatore devi cambiare basta certo vi saluto ragazzi fate una live comica su ryzen che lo link al proprietario ma tanto ormai l'ha pagato quindi ormai ormai è fatto quello che è fatto è fatto no guarda con ryzen non vorremmo fare una live vorremmo anche perché non so che urgenza hai di riceverlo perché il processore ma a parte gli scherzi ci è arrivato oggi quindi noi vorremmo montartelo domani per spedirtelo lunedì non lo faremo in live ovviamente però registreremo sicuramente un video perché primo pc con ryzen ovviamente è ovvio insomma che che lo facciamo un buon modello 144 hertz 1080p intorno ai 300 se no guarda 299 xl 24 11 ben chiudo trovi sul nostro sito altrimenti se ti da una dritta ci aggiungi 20 euro te lo fai 27 pollici le msi g27 c2 un millisecondo 144 hertz 27 pollici curvo lo trovi sempre nel nostro sito ma non con 20 euro costa 3 45 e poi lo sconto tu non te lo occupa quali sono i componenti ciao sono appena arrivato ma c'è l'elenco in descrizione ma ti ho appena iscritto ah ok c'è a me la posta risposta adesso prima di me il pc ryzen che scherzi video avrà lo sai non mi ricordo che scherzi ora tu dico aspetta una 730 gp ma questo è perché non lo utilizzerà per di per gaming così non vanno effetto con le restrizioni credo gaming ci stanno dicendo gaming eh sì eh sì cable ma la ma maneggio del pc lo vedo male che fa dosare in cartella e lo so ma qua c'è poco da salin cartella ma sai che the space the space dietro non è che cos'è questo fa per forza è il corsaire questo che fa sta curva perché lo devo spiattellare però non si chiude ma cosa ti dico sti rm non te ne ho detto parlare sempre ultra bene col fatto dei connettori col fatto io non sono molto felice di questa cosa però che me che me vuoi di che me vuoi di eh dai forza chiudiamo starai per io donna via forza diamosi se avreste potuto scegliere per il proprietario futuro di questo pc avreste migliorato ho consigliato qualcos'altro cosa guarda in 9 e 9 e 9 fa 78 20 x già era un po meglio costa comunque rosa 200 euro ragazzi 200 euro qua con la fedente al libro sta entro la metto magari top e certo però dopo ci sarà di tap quindi no a lei non basta no no deve sta tappato e se no e il rumore e spagnolo se scrivi gaming no no ma non è gaming è così forse lo scrivo è così e così avete montato un pc con grazie consiglio vendete oculus e va no non abbiamo no ma volendo sì cioè purtroppo no volendo te lo possiamo ordinare allo stesso prezzo che trovi sul sito htc ma l'ho fatto di comodità se poi ovviamente noi di base non lo ordiniamo però se prendi il pc da noi ci chiedi pure il vibe non vuoi ordinarlo sul loro sito te lo prendiamo noi naturalmente allora che caib no non è caib no lo vuoi scrivere ma voi ve lo ricordate il vostro primo pc il primo che è stato un pentium a 200 mm x nel 98 mi ricordo questa cosa adesso vi racconto questo aneddoto insomma spesa circa allora innanzitutto per farlo comprare avevo 12 anni per farlo comprare a mio padre penso che ho dovuto comprare scatole per due anni alla fine del secondo anno mi arriva questo pc prima cosa che faccio pc poi chiede a mia nonna fifa 18 me lo compra qual è fifa 18 fifa 98 fifa 98 me lo monta mi dice non si può è stata perché mancava la scala rito c'è la scala rito integrata è fatto spendere altri 700 mila lire di una v2 fx mitica v2 fx e poi stefano pure non c'era il pc a caro solo quindi vengo a giocare da me si è con il mio primo pc è stato però non c'erano i joystick e giocavamo uno col mano su una tastiera non mi ricordo del genere insomma in due su una tastiera giocavamo una tristezza infinita e io invece mio primo pc era un pentium 3 500 mamma mia che lusso lusso io ho 3 milioni e me 3 milioni e 3 mi padre lo pagò a rate mamma mia 300 mila lire al mese trata cable management vai fabio fa 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 vale ma c'è differenza c'è da fare l'aver clock di un processore da bios o comunque allora vale maximus questo è per twitch se fai l'aver clock da bios è effettivo da subito che accendi più sì ma e meno io pure oggi sta oggi sta su modalità fabbolo ma sono mettere le mani su quattro sacchi di roba ma sta in polpa non fa il numero un pa meno oddio diciamo vale maximus c'è differenza perché se tu lo fai dal bios è effettivo da subito è più stabile soprattutto non è gestito da un software esterno nell'altro caso te lo carica quando carica il software e quindi comunque c'è sempre un software sotto che gira che dice al processore a quanti me che si deve stare che non è proprio il massimo della vita fabbio stiamo a riconoscere da molto tempo purtroppo da circa circa saranno 25 anni sembra brutto dirlo ma per questo mi fa credere quanto sono vecchi se comunque si ragazzi aggiornare il bios della bugia vale la pena se guarda non so le altre cose e messa il messaggio dice che c'è messa ai vai sulla rap dei tra subito se te lo ti dice che c'è il bios aggiornato e lo lo aggiorni male non gli fa attento a non farlo esplode menaglie pure dicono qua nel 94 avevo il mio primo Macintosh un color classic 2 con 80 mega di hard disk vedo il color classic è quello tutto schermo con lo schermo che era tipo blu a plastica azzurra colorata guarda noi del calcio non ce ne frega penso una massa tanto sei autonomo no? questo è quello dei rischi dei libri molto cosenti te ho ripensato ho pensato bene aspetta fermo 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 allora chi indovina chi era la porta vince niente chi vuole indovinare? ma ci mettono un po' a rispondere vediamo lo potreste conoscere lo potreste quindi già avete capito che è un uomo e io ti dico dal respiro già capito chi è e ti posso dire dai sta buono sta senti male che vuoi il martello? no è un scalpello gli anello no ho sbagliato sbagliato non è gli anello no no tutti gli anello non è gli anello mamma mia c'è cascate subito gli anello con la vacca no no non è gli anello no gli anello o pivox qui qualcuno si butta avanti proprio perché non è la doppia scelta beh lo stagista effettivamente l'hanno un po' dimenticato la finanza ecco bellissimo spegni tutto e lui è lo stagista no stagista esame 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 al volo vai fallo con te una pivox no 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 ma io ma va sto fermo da me sto fermo da me si fa le carcetto noi non mi fate giocare ma cosa sta tanto questo? no questa poco questo non è un piccico solito questo che sennò ti pare il tuo video? capito? ha studiato e sta seguendo la live bababia no che è quel coso la? oh che cosa? cosa? questo? si ah si toccalo ragazzi scappa la vista del Ryzen non vuoi toccare? come vanno gli elementari? lui si sposta con un dito dove sta Ettore? Ettore sta a casa già ho portato bene bene è lo stagista che ritorna senza cane dicono infatti come mai senza cane? eh sta a casa sta riposando sta riposando sta riposando perché il cane è stanco capito? quello va a spasso e c'è tre volte al giorno stacco stacco bene io intanto sto un bel otto sei e non ci sono arrivato così dietro perché purtroppo non sono così vecchio per fortuna fortuna beh no sarei stato anche più esperto si va più vecchio cioè già adesso otteno ora in ariesti visto nascere già è un pezzo ero ostitato si allora vai così vabbè ma noi siamo più vecchi anche di tante persone qua cioè se tu ci pensi quando io e Stefano andiamo a cominciare a navigare su internet cioè era con 56k la linea telefonica di casa era occupata e tu dici adesso sti cavoli però devi pensare prima non c'erano i cellulari quindi non essendoci i cellulari usare il telefono di casa se il telefono di casa era occupato era un problema mi connetto mi connetto e lei si ma tu vuoi liberare il telefono e chiamato si eh cosi era ok rispondo a tutti intanto se ti pensi che non era manco troppi anni fa no mettiamo è il momento del dito adesso te fanno eh però non è possibile da me arrivano solo 20 mega eh si infatti lo scarico solo 8 mega e 9 al secondo certo per una volta quando scaricavi che 56k a parte che pareva che aveva acceso non lo so che c'era dentro bene Stefano te l'ho già te l'ho già messa via Stefano vai tranquillo l'unico uomo che è riuscito a spaccare un un coso una vaschetta di raffreddimenta liquido con la sola forza dei bracci porca miseria perchè sta stando sdragliato stando allettato allenatore dei bracci vedete è diventato un mostro allora vai col ditone Netscape come no noi pure Napster scariciamo Napster ragazzi Napster quando Mirk si usava proprio per altri scopi lasciamo perdere allora lucidiamo il dito che schiena video è questa questa è un'invidia quadro p 5000 costa la bellezza di due testoni due zucchine due ok se siamo capiti 2,000.00 ok tiè mi reggi un attimo questo ah ti stai a cascare eh shit ti è tu regalo poi e che è successo Fabio Romano Reiser no ma io c'è il gioco ti dice il gioco o lancio al cane non mi ricorda ha preso per gatto ecco che ha preso allora vai così andiamo ad avvitare ma Emile è recente Emile è troppo recente Emile pure io pure io ho uso Emile Emile c'è gente ancora usa io lo trovo installato sui pc dei clienti ma si Emile si Emile c'ha 10 anni 12 anni vabbè ti hai fatto capire che Angelo Manna c'ha dai 14 ai 16 anni eh no 20 22 sta scherzando oh il mio lo usavo io io so piccolo eh è appunto piccolo ma io so piccolo eh chi ha detto niente mamma mia senti quanto siamo ancora 119 spettatori come mai stiamo scendendo qui arriviamo al club stiamo scendendo perché qui più vai avanti e più si stanno annoiati eh ho capito allora basta è finito mi interessa il rai ok parliamo di rai è un 1700 è un 1000 è uno scherzo ehm 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 erano questi questi come quelli dell'intel uguale eh non è che cambia qualcosa purtroppo i coperti diciamo che hm 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 8-9 anni allora la manna ce l'ha detto a mia poi io gli dico sempre a loro nei video stringetelo con le mani e Stefano stringetelo con il caccio ma perché vado più veloce ma sei più super così sfonna per bene la scheda madre chi va eh dai eh dai eh ce la posso fare vado più veloce sta dormi in piedi oggi fammi il caffè no questo va a sentire male vai ma qui c'è qui c'è quale scopo vuole usare il proprio pc per configurato guarda questo ci vuole giocare a minecraft fai le cose serie fai le cose serie vuole giocare te lo dico io a quello che sta uscendo adesso a Sea of Thieves e cosa di lui Piof c'è una vera c'è l'ARFA c'è l'ARFA c'è l'ARFA c'è l'ARFA io no e io ho detto mettilo in sala non ce lo metti a te perché secondo me ne è vero io ho detto mandami la foto che ci sta giocando c'è l'ARFA io ho fatto vedere pure la mail che ce l'ho c'è l'ARFA c'è l'ARFA c'è l'ARFA c'è l'ARFA c'è l'ARFA c'è l'ARFA che funzionano sabato e domenica venerdì sabato e domenica quindi stasera devono riaprirla e quindi tipo sta generando dolore no se lo provavo quanti anni c'è l'ostaggista? eh sparate vai indovinate guardatemi bene mamma mia guarda bene come sono terrorista una settantina almeno dai vai inizia a sparare da muovi sai che ha detto con la mia scaramica è un po' aaaaa aaaaa basta stringere per riu upgrade per il pc del pivox eh si eh si eh per forza ma io voglio mettere il lettore dentro a sto cosa ahahahah se a prima ora c'ha messo che sarebbe stata la prima cosa ma qual è la prima cosa? quattro sacchi ho aspettato fino alla fine c'ho volevo venti una figuraccia però ma vieni questo qua faccio a telecamera e spente manco mi ricordo più come si monta il lettore 25 17 25 25 oh 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 rega 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 eh cucciardi ci ho preso bravo bravo è stato cucciardi il primo bravo stefanino 17 oh ma 17 di chi? di chi? oh ma si ma devi a barbo molto grosso meno di me che fai ancora a scuola eh no rega perché ho perso anni ti hanno bucce cose morte eh vorrei cercare da 40 anni è ancora a scuola questo fai la che balla ora? eh basta no? cioè a scuola è finito con il sogno della scuola adesso basta metti da parte i sogni comincia andare a lavorare il fatto ferme da nato guarda guardiamo come riapro sportelletto che fine fa 27 ma come te ne in mente 27 25 27 a me quanti vede da chitte da 27 francesco a me quanti vederà c'è un po se c'è se uno che non sa dare da o a stagista pari uno di su burra l'altro giorno sono tra i due nuovi da lì a loro è andata che fa sembra l'arbanese del romanzo criminale ma non guarda effettiva in libanese libanese il detto non guardo l'impanese libanese si somiglia buonasera scusate ritardo stefano tomasso no ma se arrivano solo in tempo per vedere la fine l'accensione di questo bellissimo pc che io tanto quello che è tutto un trick allora questo qua eccolo qua ragazzi questo è il pc mi manca tanto da mettere in maniere alimentazione al lettore e causa dal lettore potevi fare meglio cosa considerando che hanno detto che c'hai 43 anni ma si mi porto bene mi porto bene 43 anni ok mi raccomando non non è andato a lavori che devi non è andato a lavori che devi devi dare l'età no 34 vabbè c'è postata il bel bob si stefano e fabio 32 32 perché vabbè stefano lo sa lo sa lo sa a te stefano devo 35 è la barba con mentalità ma se ci ho rasata a zero no dice per me dice per me a stefano ha detto a te stefano devo 35 è la barba con mentalità francesco belice catenata 27 a me vincere da 5 siamo quasi quei tanti siamo di corti male 8 male malissimo se fate per edà io sono il più vecchio della live gente quanto al nostro follower più vecchio facciamo 40 allora ragazzi questa è la macchina finita la vostra accende stacca stacca ne manca mette il lettore ma io posso accendere tutto connesso e non ho letto di attacca da coppia tra virai testa perde sta a 18 euro ma accenni ma ma c'è la faccia una più più che c'è nessuno in quale non è stata davanti di amare questo può questo qua non è questo dove ma si api ciò è bello pieno di led non mi led questa qui la zx 299 c'è l'acqua e ce l'ha sotto qua modulo e sordina cubro e io lo fa vedere vai qualcosa di tanto non credo che uno si fa questo pc per i led no fake boot se ancora stanno a sparare le date d'età ma che c'è qui a fianco questo è spoiler 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 non c'è arrivare un posto dio ma c'è un pc da quello quello che abbiamo montata quant'è la settimana che sta la sotto quando qua c'è lui allora mezza merda di staffa ma come ti permetti pivox stai sfidata l'usb ah vabbè per fortuna allora ragazzi vi piace che non toccare che poi esplode grazie marcello ti piace come è venuto questo pc ma di là che ragazzi c'è una rumorosità facciamo i seri è molto silenzioso è pari a zero quasi si senta la moto di fuori non si sente il pc ma si sente quello che stiamo usando lo streaming che è quello non si sente udiu ryzen udiu 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 allora per te se questo qui ma adesso non lo chiudo perchè devo mettere il salto ma con questo qui diventerebbe proprio insonorizzato grazie a questi pannelli in fondo assorbente si chiama silenzio questo pc questo case e questo invece è la nostra invidia quadro p5000 che sta girando questi due zucchine due testoni che si stanno muovendo in questa linea non li farebbe manco se tu ci metti una titan xp quella costa 1.400 e te la cavi questa costa di più e non è manco il top che c'è la quadro in invidia sul mercato questo è il frontale del case è molto 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 nato natura come siamo prima possiamo accedere a questo comodo e fantastico lettore ci metti chiamo che è un masterizzatore cd dvd all'avanguardia ultima generazione riesce a masterizzare cd pensate pensate e pensate fino a 52 per ok e i dvd invece fino a 18 18 per attenzione anche i dual layer che stanno per uscire sul mercato questo è un video adesso oggi è il 10 novembre del 1997 e stiamo presentando in esclusiva l'uscita del nuovo lettore masterizzatore dvd incredibile 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 o meglio titan o p5000 a titan se c'è rigiocato se c'è di lavorare semplice ci starebbe una slide quadro mamma mia una slide quadro sto pc non so se te lo rubano te li vengono la macchina che c'è una bella macchina se c'è un pandino che ce la fai quando tu ricompri allora buonasera claudio damiano grande grande avete già montato una 1080 ti poseidon si l'abbiamo già montata c'è capitato per fabio ho passato i 46 anni capito andrea guarnieri ha passato i 46 anni e non ha mai visto montana md fino a oggi mannaggia la miseria e questa la becchia c'è stava allora siamo ancora 117 spettatori sono le 7 di sera 159 like sono pochi per chi è entrato all'ultimo dicete mettete il caos like all'interno della niente tra poco e allora esce la play 2 esatto che pandemonium insieme te lo danno e crash bandico 2 finalmente potremo giocare al secondo capitolo di questa fantastica saga che chissà se riuscirà a 90 90 97 riuscirà a entrare a entrare 2 no 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 infatti si sta appena uscita si da molto dopo arrivo 2000 2000 a 97 roba era appena uscito residenti 1 e quindi era play 1 si lo so allora ho la sensazione che si fixa un negozio di fanboy sfegatari di intel c'è ragazzi no giorgio non è vero è che noi ci divertiamo a sfottere razza ne perché si è creata tutta una storia una montatura di era l'uscita di questi nei processori e quindi tutti gli utenti che ci seguono sul canale sanno benissimo che ci scherziamo sopra poi in realtà non siamo le parti perché io ho spiegato in passato ho avuto amd alon x2 4200 e 4.6 il 5.000 li montavo su edfi sulle habit ma che ne sai te ma è vero di beccassi una sarebbe la faccia al quadretto ma gli fasi non parti mf4 ultra di merda di bella mica solo qua su youtube pure su telegram ogni tanto se ne escono qualche fodera e se non mandate a fabio tra poco windows 98 è esatto che non tanto e se vogliamo no ma cosa cavo dice lo stagista niente sempre cose giuste e sensate più compro il macbook pro 13 scuola internet a questo sicilio lo so che scordano ma piuttosto di windows portatile che preferisco quello che pensate guarda luca 12 è difficile poi da utilizzare se tu parti da zero è difficile impararsi a utilizzare mac os però più semplice di windows ma che no se parti da zero se abbiamo subito se parti malissimo se sei abituato su windows sì ma se lo dai davanti a un vecchio di 70 anni vi ricordate karmageddon grande karmageddon troppe partite sono fatti a karmageddon ne sono divertito dfp ah no aspetta però luca civita dfp 45 che mo ma nascosto sono a no è uscito della p45 è uscita dopo zio tu lo sai cavolo a p45 c'era nf4 ultra di ragazzi e quello è per le cose gialle i camisano giallo all'inizio dfp faceva solo schede per md non le faceva per inti ricordi questa cosa da ricordi all'inizio non faceva schede per intel era quello motivo alcune md poi appena fatto scadere interno a intel esercito quando c'è del primo e 6.600 e poi il q 6.600 e da lì uscì la p45 la di 55 da lì è iniziato lo scatafascio di fai fino a quando ha detto rega tanto nuvame i sistemi per le aziende la roba grossa i server levamose dal mercato questo qui perché tanto va a finire male infatti così è stato uguale ha fatto a bit per chi non lo sapeva bene aveva detto dato chiudiamo qua poi dopo l'anno chiudi tutto proprio una capito non è solo qua leva tutto pure la roba che rimasta si scaffale in namo se ne accade se ci scherziamo solo poi quando li chiami al telefono e gli chiedi ryzen e noi e noi ci occupiamo da intel e gnì gnì ma lo stagista lo vogliamo pagare no assolutamente no noi che paghiamo anzi pagaci te si chiama staggista se sta qua sfruttato non pagato cioè staggista vuol dire questo ed è a bit di max come si chiamava la mamma mia che bella pensa la abbia questo è sempre luca civile se le parti e levati basta va fatta non c'è la studiate ma fate ho l'iphone mi trovo bene ma come pc o o uno windows o uno windows ma se la scuola tu ce li andava senza portatile ascolta l'insegnante o uno windows no ma l'iphone ragazzi a parte scherzi luca non si può paragonare l'iphone con il sistema mac os è totalmente diverso nell'utilizzo comune l'iphone è il miglior telefono se appare il mio di facilità di apprendimento l'utilizzo perché non ha un menù interno stai zitto che ti dice tu fanboy ecco questo è il fanboy numero uno un giorno faremo una live sulla telefonia però dicevo chiamiamo pure andrea galeazzi vabbè 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 qual è il migliore scheravito tra adesso no ti sei perso max l'andrea galeazzi perché fa bravissimo andrea galeazzi fa delle recensioni ha fatto dell'iphone x dice che funziona col cappello quei cosi quei segni in faccia a quello lì è un venduto è la migliore di schede video tra queste che ha detto nessuna è morto sulla tastiera ciao fate anche programmazione quale web no no posso fare ripetizioni non ancora più differenza c'è tra quello l'ho già detto ho detto ho detto ho detto l'apprendista il richiede ortix lasciato a lavorare bravissime sarà per prima aria a web ok ma avete il nome dai messaggi importanti ok avete montato un pc con caffè caffè gtx 1080 di hoff no non c'è mai capitato quale scheravito è meglio tra m6 qual è scheda video è meglio tra m6 0 270 e m6 h 170 quale scheda video ma come fai quale scheda video allora allora e cosa sono due o è la prima volta che viene qua o trolli o sta a trolla o trolla beh sono quelle domande 1 7 cosenti qual è meglio tra no quello che ti dice che il pc è meglio perchè c'hai 7 e basta allora è ride rider of spider ma io c'ho i 7 eh ovviamente quella non è una scheda video è una scheda madre numero 2 anche se fosse quale è meglio non esiste un meglio se devi overclockare hai un processore che c'ha la letterina k a fianco al numero puoi prendere la z così overclocki se invece c'hai tipo che ne so l'8007 il 7700 e non k perché l'8007 non c'è qua su quel se c'è il 7700 e il 6700 e non k prendi una h che c'ha le stesse potenzialità ma non ha le funzioni di overclock detto questo basta oddio sei assassino game ward non ne conosco game ward è bella marca all'epoca andava forte il sistema mac è sempre più veloce rispetto android perché non serve tanta potenza per farlo girare si no dell'85 scusa è interessante avevamo windows 95 con prato fiorito esatto esatto sto chiedendo a stefano e fabio cosa ma in tutto questo cosa ne pensate le schede video game ward ah ok alessia ma adesso produce schede abbastanza commerciale adesso è rientrato commerciale una volta era più di nicchia quando prendevi game ward c'è il caso grande gerardo napoli che si è iscritto bravissimo ma chi l'ha messo io è una vista super chat luca civita dona un euro sulla super chat qui sotto c'è la s col dollaro dona un euro luca civita devi donare un euro che dobbiamo vedere l'emoticon come compare forza forza chiedo perdono per l'errore te lo posso far vedere l'emoticon? no devi donare l'emoticon no no devi donare l'emoticon no c'hai i sordi spilorcio no ride of spider sto scherzando cioè noi scherziamo ce n'è una che non è uscita te la faccio vedere che non è quella della super chat è la donazione su streamlabs ah su streamlabs si vediamo con i minions 41 euro ci hanno donato il grande grande thank you john thank you thank you john ok questo qua ok torniamo di qua stella gtx 580 è un forno mi riscalda tutta casa ma all'epoca consumavo io avevo una 5,90 figurate per montare tre mobili contemporaneamente una 5,90 che o facevi lo slide o mettevi io un cd ok lo spedisci uno marcello un cd di wino 95 pagato 50 centesimi mamma mia se ce n'è uno spedisci bella raga di bella yonda a pick up for you yeah grande allora ragazzi io direi che ce ne andiamo ecco proprio no beh siamo 100 spettatori precisi 99 in questo momento quindi è il momento di abbandonare la giusta il braccialetto togliamo il braccialetto ce ne andiamo a casa per chi si è connesso adesso per in tipo yonda o un altro non mi ricordo chi è stato connesso da poco vi consiglio di rivedere la live quando stata perché è carina perché il pc effettivamente è una bestia della miseria questo qui è un ottimo super mega in ultra pc che adesso bucciardi attenzione grande stefano ma aspetta adesso esce eccolo guarda ci mette un attimino questo qui da donazione non è quello la non è quello della super chat degli utenti eccolo grazie stefano grazie 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 ma ma è meglio un i7 1080 di ai basta giri b manco di risposta altro la mente ci lo vanno a dare da una copia che una copia che no quello originale 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 non attacchiamo al muro come vedete il nostro poster qui chiedo che non mi ricordo manco l'utente che ce l'ha fatto e che non mi ricordo che faccio no ma allora il discorso ragazzi ebbe mentre vanno intanto riferisco di fa sta cosa il discorso non è che non vuole c'è non devo chiudere la live per qualche modo è perché semplicemente dobbiamo cioè io qua adesso se chiudo la live mi metto mi collego sti cavetti adesso mi sto collegare il masterizzatore poi dopo mi metto a installare il windows su questo mi monto quell'altro pc piccoletto però se lo faccio tutto in live porco giuda arrivo che non ne sa fa quindi per quello dicevo all'epoca se entravi in internet arriva al postino 200 bolletta teco esatto e poi ti dicevano tu madre veniva no ma come sono arrivati 900 mila lire mi sa che si sono attacchiati te sei attacchiato ha capito era così a me una volta davvero a parti scherzi ma erano i 5 milioni ma non erano i tuoi o erano i tuoi tu puoi capi sta storia funzionò così ma arriva una bolletta che era due milioni e mezzo mi madre non so stato io ma no 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 non so stato io vabbè ma io mi staccano il telefono due milioni e mezzo erano usati un botto si tu hai un milione e due al mese mi arriva una seconda poi mi staccano il telefono non posso usare ma dopo due mesi ma che l'entrò un milione e no dai non è così però non è così ma mi hanno staccato non ho usato io poi dopo ti chiami fai guarda siamo mandati il tabulato posso vedere prima prima ci paghi e poi ti mandiamo il tabulato si stai fresco non te pagherò mai te pagherò mai infatti non ho mai pagato questo lo dico saluto saluto gli amici della telecom vecchia sip e non vi ho mai pagato circa 4 milioni ma si ma non ve li do non vi darò mai quindi va bene saluto sette sto finito montare a lettura comunque stefano un ciardi prima c'è donato 5 euro mamma mia stai tocca fare il sconto domani quando è sì da che si ripia domani grazie a mano da racconta mandato allora intanto finisco di collega al cuo aspettanti stai buono dai buoni con le cappe forza guardate fabbio come fa amichetto perché poi giacassi ottissima da maledetto ragazzi se non conoscete signore si è andata a vedere ma che ti parlano ok che ne pensate del case termitec versa si è grosso però sì 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 bello sì no no va bene non è brutto non è brutto ma che se però diciamo che comunque se guardate bene un po costoso trovate un po di giro ok quale quadro 2000 m oppure p p p ma non fate non fa niente la super chat chat si fa nel senso il messaggio che scrivi mentre doni rimane evidenziato per un tempo che tu vedi che si prosciugano poi non ho detto più soldi mettete più tempo dura non è vero questo è un modo per estorcervi denaro di fatto rimane un po l'istora quella quella scritta evidenziata e poi esce wismith che ti fa l'applauso bene dai dai noi ce ne andiamo ragazzi che io ho finito di montare questo ho messo il lettore ho messo quello ho messo quell'altro adesso mi metto a montare quell'altro pc tanto in frattempo e allora domenica esce la terza puntata terza puntata del riff quindi easy fish guardatevelo interessante carino sta avvenendo una bella cosa succederanno delle fantastiche cose della serie lasciamo perdere poi da me il buon fabio e lo stagista che ogni tanto ritorna a volte ritornano è tutto ci troviamo venerdì prossimo con la prossima live e quindi fate i bravi un pescino per sanata la 6.000 euro sempre più su vi aspettiamo per farvi vedere il video del rapizio non sarà il live ai 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 quindi tutto ci sarà da divertirsi ciao a tutti i ragazzi ha seguito ciao 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 voglio bene ciao fate i bravi ciao 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 ciao